Torna per l'ottava edizione la Babbi Bike, la vigilia di Natale tutti in bici per solidarietà verso i bambini di oncomatologia pediatrica di Padova. La provincia di Padova è orgogliosa di ospitare nelle sue strade l'ottava edizione di Babbi Bike, la ciclopedalata turistica a favore di Team for Children Onlus e il 24 dicembre con partenza da Selvazzano per passare poi per i territori del comune di Teolo e di Abano Terme. Un orgoglio che queste municipalità si mettono insieme per garantire la sicurezza della manifestazione e una manifestazione che parla di solidarietà a favore di tutte le persone che hanno bisogno, in questo caso a favore dei bambini dell'oncomatologia pediatrica. Vi aspettiamo tutti quanti alle 14 a Selvazzano, ci saranno tantissimi altri amministratori della provincia di Padova con orgoglio e con il sorriso per augurare a tutti Buon Natale. Ci sarà anche Mauro Bergamasco con noi e vi aspetteremo tutti quanti. Grazie. Siamo partiti davvero in un gruppetto di pochi amici, oggi siamo una cittadinanza unita di tante municipalità e abbiamo questa grande fortuna che chi la organizza e noi abbiamo l'onore di supportarla, riesce a tramandare adesso grazie alla partecipazione di tante famiglie quei valori di solidarietà che oggi nella società molto spesso si vanno perdendo. È un'iniziativa che non solo festeggia Natale, non solo diffonde amore, credo poter dire, ma fa anche molto e tanto per unire le nostre cittadinanze. Quindi un grazie a tutti, grazie a chi lavora, sta lavorando e lavorerà e grazie dell'opportunità che abbiamo avuto e avremo ancora, spero sempre, come municipalità, di partecipare e supportare questo tipo di iniziative. I numeri crescono ogni anno del 30%, statisticamente l'abbiamo provato, l'anno scorso eravamo in 1.600, quest'anno puntiamo oltre i 2.000, i vestiti ce ne sono già stati venduti in data odierna a più di 1.200, quindi i numeri ci sono, ce ne sono ancora molti disponibili, sono disponibili anche il 24 dicembre alle ore 14 e Tencarola di Selvazzano. Se non avete il vestito un po' prima perché la caravana parte e ci sarà anche l'amico Mauro che mi sono portato oggi in compagnia.